Il 2020 conferma così fasi altalenanti con previsioni catastrofiche nell'era covid poi disattese tra luglio e agosto. A Lancioni infatti dopo decine di disdette tra marzo e aprile da parte di comitive di pellegrini provenienti dall'estero, circa 120.000 ogni anno, il miracolo eucaristico ha ricominciato ad attrarre turisti e devoti con numeri lusinghieri. La tendenza a passare le vacanze in Italia ha infatti promosso l'Abruzzo come una delle mete più interessanti da scoprire tra mare e montagna con città interessanti dal punto di vista culturale che ne hanno beneficiato e Lanciano è una di esse. Il miracolo eucaristico custodito nella chiesa di San Francesco vede quotidianamente decine e decine di fedeli e turisti soprattutto dal nord Italia. No perché avevo sentito parlare di questa cosa e sono curiosa di vederla. Da San Severino Marche? Apposta per il miracolo eucaristico? Sì, molto sì, una bella cittadina. Quanti giorni vi trattenete? Solo fino a questa sera. Diciamo che di origine sono abruzzese ma è la prima volta che vengo perché la conoscevano più quelli di Lecco che io che sono abruzzese e di conseguenza sono qua. Bellissime, davvero. Quest'anno vacanza in Italia? Vacanza in Italia, sì, sì, sì. Non si discute nemmeno, solo in Italia. Garigio Emilia. Prima volta a Lanciano? Sì. Perché questa scelta? Ma perché siamo in Abruzzo dai parenti e abbiamo deciso di venire qua che non avevamo mai visto. E dopo disdette continue, intere comitive provenienti da Sud Corea, Filippine, Indonesia e Brasile, prenotate da tempo che sono invece rimaste a casa, il movimento ha risollevato animi e casse di tutti coloro che con librerie religiose e souvenir fanno da corollario al santuario. Per la prima volta hanno lavorato anche nel giorno di Ferragosto. Adesso sono più italiani che vengono stranieri ancora poco. Quindi ancora si riavvia proprio totalmente perché qui vengono tutte le parti del mondo e quindi adesso in questo periodo siamo, siamo ancora fermi, insomma. Però ci sono presenze? Presenze, sì. Molti italiani. Molti italiani? Sì, sì, sì. Un turismo religioso si è riavviato? Sì, un po', sì, sì, si è riavviato. Famiglie, tante famiglie, qualche gruppo viene piccolo da 20, 25 persone. Sì, stiamo riscontrando anche qui in libreria un'affluenza turistica maggiore ad agosto, un mese che di solito ci vedeva lavorare meno ma è positivo perché vediamo tanti italiani tornare a riscoprire le bellezze della nostra città. Non è un turismo solamente religioso ma è un turismo che si concentra anche sull'arte, sui musei, sulle bellezze storiche, artistiche che la città offre. Sono persone anche che piacevolmente colpite da Lanciano che ci dicono anche che è la prima volta che arrivano in città, che vorrebbero tornare e questo ci fa piacere anche perché la città offre molto e quindi in due o tre giorni è positivo che questa città venga visitata. Siamo in una posizione privilegiata tra la montagna e il mare che sono a distanza ravvicinata e quindi la nostra città può e deve offrire molto e siamo felici per questo.